Oggi è una giornata in cui dobbiamo esprimere condoglianza alla famiglia di una impresa importante che è l'azienda Camillini, purtuttavia dotarsi di mascherina, di guanti, mantenere le distanze nei supermercati, nelle farmacie, ovunque, nei luoghi di lavoro, paga perché diminuiscono i morti, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i ricoveri ospedalieri e ci prepariamo per la ripresa economica e produttiva che deve avvenire nel massimo di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo anche deciso di distribuire di nuovo in settimana il secondo giro dei buoni spesa per altre 150 nuclei familiari e riteniamo importante riattivare un tavolo per il lavoro. Occorre che le aziende, come quelle più importanti, già fanno, facciano i tamponi a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici in maniera tale che c'è una larghissima fascia di cittadini che si sa se sono malati e se possono essere oggetto di contagio.